Il Parco della Tesoriera di Torino come un lungo tappeto di dadi, carte e pedine colorate. Tutto questo grazie a Top Play, l'evento che per un fine settimana ha trasformato Torino nel regno dei giochi di ruolo e da tavolo. Una manifestazione così come si organizza? Si condivide prima di tutto un sogno e poi quando questo sogno è condiviso da tante persone diventa una realtà vibrante. E oggi siamo la più grande manifestazione di gioco di ruolo d'Italia e una delle più grandi di gioco intelligente da tavolo, board games e board games praticamente di tutto il Piemonte d'Italia. E nell'era del digitale i giochi di ruolo e di società conservano ancora il loro fascino. Quando ci troviamo a giocare da tavolo siamo attorno nello stesso luogo e quindi abbiamo un legame fra di noi, condividiamo un legame e quindi questo crea una comunità. Raccontiamo la stessa storia e quindi a quel punto facciamo parte della stessa comunità. La ricetta per un gioco perfetto forse esiste. Non deve mai mancare la fantasia e poi un gioco secondo me deve essere equo perché in qualche modo tutti vogliamo vincere ma soprattutto vogliamo avere delle possibilità di vincere e quindi di stare assieme con gli altri allo stesso modo. Spazio anche alle curiosità, Risico, uno dei giochi di società per eccellenza, in una sua nuova versione diventa un gioco più veloce. In media una partita Risico quanto dura? Allora, tanto tempo fa, tutti vi ricordate del Risico infinito, quello che passavamo le nottate, adesso da un po' di tempo a questa parte, una decina d'anni, 15, c'è una modalità nuova che è quella che stiamo giocando, che la partita dura un'ora e mezza. Quindi è un gioco che si è allineato a tanti altri giochi di società che sicuramente conoscete, dopo un'ora e mezza la partita finisce e si conta un po' quella che è la situazione. Ma con queste tempistiche, diciamo, di mezz'arte, Risico non è che perde il suo fascino? No, Risico non perde mai il suo fascino anche perché è diventato un gioco un po' più strategico e si avvicina molto a tanti altri giochi di società perché il fattore fortuna incide un po' meno. Qui vedo un gruppo di ragazzi che stanno giocando a? Il gioco si chiama Azul, è un gioco da tavolo in cui dobbiamo comporre delle vetrate con dei pezzi che prendiamo dal tavolo. Un gioco di strategia abbastanza veloce e la partita durerà più o meno una mezz'oretta. Top Play è giunto alla settima edizione, 8.000 partecipanti, 620 e oltre 240 tavoli per provare le emozioni dei giochi di società.